Il Milan e il Spagnolo a Lecce, anche qui campo neutro come era quello di Ofi, Caleta e Salonico. Ecco al fine del primo tempo questo disimpegno, vedete che ci sono tre giocatori delle Spagnole in fuorigioco, non se ne accorge nessuno, neanche l'arbitro, credo che lì per lì neanche i giocatori del Milan, tutti se ne siano resi perfettamente conto. Rivediamo l'azione che ormai era un disimpegno e un po' di leggerezza, sicuramente il fuorigioco, via libera Zubigliaga che al quarantesimo del primo tempo va a battere Giovanni Galli portando in vantaggio le Spagnole. Ma è tutto precipita nella ripresa, al quarto minuto c'è questo regno di Giovanni Galli, il contrasto è perso, ne approfitta Zuniga che serve al centro Pici Alonso, diceva prima Lidl era cosiddetto il passo del Ceco, poi possiamo... il passaggio del Ceco, no? Non mi nasconde il passaggio, non mi nasconde il passaggio, non mi nasconde il passaggio. Era mai tesero, dove è molto bravo peraltro Pici Alonso a controllare, è molto bravo, il gol è sicuramente molto valido. E qui siamo adesso, ancora una sconfitta...